Siamo a Vicenza, la tredicesima edizione del Festival Città Impresa, dove si è appena concluso un importante incontro dedicato al tema internazionalizzare negli anni delle incertezze, come affrontare gli investimenti e i rischi globali. Internazionalizzare non significa più avere soltanto un distributore o un agente, significa sempre più creare filiali importanti, costruire fabbriche perché è il tuo stesso cliente a chiedertelo, acquisire aziende estere. Nei prossimi anni questo sarà oggettivamente più difficile sia per le questioni sanitarie che per le tensioni geopolitiche e per fare queste operazioni che riguardano anche le integrazioni culturali servono soggetti che non solo finanzino la crescita per linee esterne ma anche apportino competenze. Tra i vari soggetti che svolgono questo ruolo ci sono anche i fondi spesso scelti o chiamati in causa da aziende che si pongono l'obiettivo di crescere all'estero. Ne hanno parlato Nicoletta Azzi, amministratore delegato Panguaneta, azienda leader nella produzione di compensati di piopo dalle innovative caratteristiche prestazionali. Angelo Facchinetti, partner Equinox Private Equity, partner per lo sviluppo delle PMI con un approccio distintivo per accompagnare le aziende nei percorsi di crescita. Oscar Marchetto, presidente SOMEC, azienda trevigiana attiva nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile. Francesco Nalini, amministratore delegato Karel Industries, azienda nata a Padova e produttrice di componenti impianti di condizionamento e refrigerazione in forte espansione internazionale. Nicoletta Azzi, voi con Panguaneta, siete presenti in 25 paesi con un prodotto molto specifico. Come avete costruito la vostra leadership e quali sono i nuovi obiettivi? Panguaneta produce pannelli di compensato, nasce nel 1960 e già negli anni 70 cominciano le prime vendite all'estero che sono continuate ad espandersi progressivamente raggiungendo tutti i paesi dell'Europa e anche fuori dall'Europa. La leadership che abbiamo conquistato nel nostro prodotto si fonda sulla competenza del prodotto, sulla continua crescita della filiera sia a monte che a valle, quindi prodotti controllati, filiera di acquisto della materia prima, del pioppo che è la nostra materia fondamentale, competenze legate sia alla qualità che è la coltivazione ma anche alle filiere di approvvigionamento, quindi partnership molto profonde con la parte dell'acquisto. La stessa cosa verso i clienti, quindi conoscenza profonda del mercato del cliente, delle esigenze del cliente, legame continuo sulle nuovi prodotti, sullo sviluppo, sulle necessità, seguire il cliente e adattarsi anche alle sue esigenze. Questo ci ha permesso in questi 60 anni di storia di creare dei legami veramente molto profondi, obiettivi per il futuro? Obiettivi, penso che come tutte le aziende si voglia crescere continuamente in modo esponenziale, speriamo, vogliamo far crescere i nostri clienti allo stesso tempo crescere noi, riuscire ad avere magari anche delle posizioni fuori dall'Italia, se la dimensione che raggiungeremo ce lo consentirà, essere sempre attenti allo sviluppo anche produttivo interno, l'efficienza interna aziendale e anche una profonda attenzione all'ambiente e alla parte ecologica del nostro prodotto. Su questo noi ci stiamo battendo da molti anni, abbiamo la fortuna di avere un prodotto che parte da una materia prima rinnovabile, come il Pioppo, filiera corta, un prodotto italiano che viene esportato in tutto il mondo ed apprezzato. Su questo noi abbiamo inserito tutta una serie anche di certificazioni, non per il gusto della certificazione, ma per far capire il valore del prodotto che facciamo e perché non abbiamo timore di verificare che questo prodotto ha una valenza importante anche per l'ambiente e per il futuro. Angelo Facchinetti, partner di Equinox. Come possono i fondi di investimento aiutare le aziende a internazionalizzarsi? I fondi cercano di aiutare le aziende nell'internazionalizzazione innanzitutto comprendendo l'azienda, la sua situazione di partenza e quindi cercando di capire in che modo è meglio avvicinarsi ai mercati internazionali. In alcuni casi si tratta semplicemente di muoversi in una logica di distribuzione, di commercializzazione di prodotti, in altri casi si tratta di una globalizzazione maggiore che può riguardare tutta la catena del valore aziendale, quindi la supply chain, la produzione. Noi quello che cerchiamo di fare è di avvicinarci all'azienda e di progettare insieme a loro l'approccio migliore per muoversi all'interno di un mercato che in alcuni settori sta diventando sempre più globale e tuttavia valorizzando il più possibile quello che non può essere necessariamente globalizzato. Oggi in passato abbiamo assistito ad aziende che hanno estremizzato l'offshore e quindi hanno portato fuori anche dei processi che poi è stato costosissimo re-internalizzare. Quindi è molto molto importante, gli investimenti per muoversi in maniera internazionale sono molto molto grandi. Prima di iniziare è meglio studiare attentamente. Noi l'abbiamo molte volte già fatto e quindi cerchiamo di far risparmiare all'azienda la curva di apprendimento per andare all'estero. Pensando alla situazione attuale, qual è secondo lei l'emergenza? Io credo che l'emergenza stia nel cercare di sfruttare il momento che stiamo vivendo nel modo più profittevole per il nostro paese. Le situazioni che noi viviamo oggi sono da un certo punto di vista drammatiche ma dall'altra parte sono anche una grande opportunità per la ripartenza. Io penso che la cosa più importante sia riuscire a concentrarci su ciò che è strategico, quindi quali sono i settori industriali, le competenze, il knowledge. Il nostro è un paese pazzesco, mai come oggi è importante capire da dove ripartire. Investire le risorse nel modo sbagliato oggi sarebbe più pericoloso che non in passato. In sostanza quello di cui il nostro paese ha bisogno è il decidere oggi qual è il piano industriale della nazione Italia, della multinazionale Italia. Oscar Marchetto, presidente di Someca, azienda attiva nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiave in mano nell'ambito navale e civile. Voi praticate da anni con estrema velocità un percorso di crescita per acquisizioni, molte in Italia ma anche all'estero. Quali sono i progetti per il futuro? I progetti per il futuro sono due, come abbiamo sempre fatto negli ultimi sei anni che siamo passati da 20 milioni a 250 milioni nella chiusura del 2019 e di crescere per vie interne e per vie esterne. La grossa operazione che abbiamo fatto all'estero è stata di fabbrica. Nel momento che abbiamo fatto la quotazione a Lime è stata fatta un'operazione di acquisizione di un'azienda americana sul Cotywald, cioè su tutto quello che è il glazing di Grattacieli. E lì è stata una scommessa perché alla fin fine fabbrica pesa quasi il 40% del nostro fatturato. Però per trovare le aziende all'estero è facile, però per trovare le persone non è così facile. Di fatti fabbrica ci sono dei soci che sono rimasti soci all'interno che sono di origine trevigiana. Loro sono scesi, scesi, sono andati oltre il mare 30 anni fa, si sono stabilizzati lì, hanno la famiglia lì, però la mentalità è quella nostra. Cioè noi, quello che sappiamo fare gli italiani, facciamo tanta confusione, però quello che abbiamo di confusione lo sappiamo mettere anche nel lavoro, nelle strategie, nell'innovazione, ed è quello che sono riuscito nel 2018 con questa operazione. Ci sarà nel futuro la stessa identica cosa, crescita interna e crescita per vie esterne, però io cerco le persone, cerco gli uomini come ho sempre cercato nei miei ultimi 5-6 anni, perché quando io ho lasciato la vecchia azienda in cui l'ho fondata nel 91 e ho fatto questa avventura a fine 2013, ho sempre giocato con le persone. Francesco Analini, voi avete da tempo intrapreso la strada dell'internazionalizzazione. Quali percorsi avete seguito e quali seguirete in futuro? Allora, noi abbiamo seguito essenzialmente due direzioni per l'internazionalizzazione. Una di tipo commerciale, quindi da molti anni stiamo creando una rete commerciale diretta presente in tutto il mondo. Su circa 1700 persone abbiamo oltre 400 colleghi che sono commerciali dipendenti. Questo perché, dato l'alto livello di tecnologia che abbiamo e il processo di vendita lungo e complesso con i nostri clienti, riteniamo fondamentale avere personale altamente specializzato interno all'azienda. Per cui questa è una delle direzioni. La seconda direzione è quella della internazionalizzazione e multilocalizzazione produttiva. Questo sia per essere vicini ai clienti, sia per avere una supply chain più resiliente, cosa che si è dimostrata poi molto importante durante questa emergenza pandemica, perché avere più stabilimenti in grado di produrre gli stessi prodotti ci ha consentito di spostare molto velocemente le produzioni quando, prima in Cina e poi in Italia, alcuni nostri stabilimenti sono stati chiusi. Quindi questa strategia che era nata per garantire la continuità di fornitura ai nostri clienti si è rivelata fondamentale in questa circostanza, tant'è vero che la stiamo anche rinforzando. Quindi i nostri obiettivi per il futuro sono quelli di rinforzare ulteriormente la nostra resilienza, investire ulteriormente nell'espandere la rete commerciale, ma vorremmo anche investire di più sullo sviluppare l'AR&D nelle diverse parti del mondo, perché le piattaforme tecnologiche, per esempio tra la Cina e l'Occidente, si stanno diversificando, quindi noi che abbiamo già 60 persone in AR&D in Cina, investiremo ancora di più per creare dell'AR&D non solo in Cina, oltre che in Europa ovviamente, ma anche negli Stati Uniti e nelle diverse parti del mondo, in modo da seguire l'evoluzione dei diversi paradigmi tecnologici. Pensando al post-emergenza, se doveste fare una scelta, dove secondo lei vale la pena di investire? Ma allora, dal punto di vista del Paese, ovviamente ci sono molte priorità e si potrebbe dibattere a lungo. Io credo che dovendo scegliere una cosa, per il medio e lungo termine, essenziale sia investire sulla istruzione, quindi sulla scuola, sull'università e sulla ricerca, perché questa è la prima cosa che garantisce lo sviluppo del Paese nel medio e lungo termine, altrimenti nel medio e lungo termine non si andrà da nessuna parte.